Buongiorno, vi do il benvenuto. Siamo qui alla scuola di ABF di Clusone. Sono il docente di pasticceria Bosio Filippo. Siamo nel laboratorio di pasticceria panetteria, corso di operator delle produzioni alimentari di pasticceria e prodotti da forno. Il corso è organizzato su tre anni, di cui le materie base sono italiano, matematica e inglese, le materie invece professionali è pasticceria e panetteria e scienza dell'alimentazione. Il primo anno diciamo che organizziamo soprattutto tutta la base della pasticceria e panetteria, quindi diciamo le paste frolle, le pastesfoglie, le creme pasticcere. Invece le parti più evolute andiamo nel secondo anno, che possono essere il pan di spagna, le torte farcite, semi freddi, mimose, sant'onore. Nella panetteria invece nel secondo anno fanno del pane speciale, soprattutto visto che nel primo sono tutte le basi, taralli, grissini, queste cose. Il terzo anno di panetteria andiamo su panni multicereali, fanno la pizza, focacce di tutte le regioni italiane, visto che ci sono diversi tipi. Invece nella pasticceria il terzo anno andiamo soprattutto su delle mousse, sulla lavorazione del cioccolato, sul design che lo ritroveremo anche nel quarto anno. Inoltre la materia di scienza dall'alimentazione studiano le schede nutrizionali, la tracciabilità dei prodotti, conservazione degli alimenti. Nel secondo anno e terzo anno i ragazzi vanno in stage nelle aziende locali e al termine del terzo anno avranno la qualifica per poter lavorare. I ragazzi poi possono, volendo, fare il quarto anno sia in presenza a scuola, oppure come apprendistato o duale, che al termine del quarto anno avranno il diploma di valore europeo. I ragazzi possono proseguire gli studi facendo il quinto anno presso un istituto alberghiero e poi, volendo, proseguire con l'università.